Era doveroso fare questo approccio per capire i tempi e le modalità che si stanno attuando, soprattutto perché ci sono molte false indicazioni. Diciamo che dal confronto c'è stata evidenziata, almeno per quella che è la mia competenza, quindi la liquidità per le aziende, c'è una difficoltà soprattutto nel mettere da subito questi prestiti a disposizione, perché c'è una procedura da seguire che devono seguire le banche e che le banche devono seguire tramite una piattaforma a comunicare al medio credito centrale e subito dopo ritornare all'istituto di credito. I numeri sono elevati perché alcuni istituti ci hanno detto che complessivamente le pratiche già presentate sono circa 19 mila, parliamo di una settimana, quindi parliamo di cifre enormi. La piattaforma che collega le banche al medio credito centrale, che è quello che poi deve dare la risposta definitiva alle banche, è entrata in funzione solamente venerdì sera, quindi credo che ci sarà ancora qualche giorno da aspettare. Quello che ci interessava però capire era se c'era quella disponibilità che ieri anche il Presidente Conte ha richiamato, quella sensibilità da parte dei studi di credito, di andare a favorire l'accesso a questo tipo di credito. Siamo al punto di riuscire a dire che abbiamo al momento al lavoro più di 30 persone, con un'azione che si sta rendendo efficace, dando già una risposta a quasi la metà delle pratiche presentate. Saremo sicuri che riusciremo in brevissimo tempo a buttare dentro tutte le pratiche valide, perché il vero problema è la complessità delle domande rispetto a una verifica attenta e seria per evitare che queste possano essere respinte e dover magari costringere i datori di lavoro a ripresentare la domanda e quindi veramente ad avere dei tempi lunghissimi. Siamo già da ieri con circa 2.000 pratiche consegnate all'Inps, oggi ce ne saranno, penso entro stasera, un altro migliaio. Sono 11.000 datori di lavoro che hanno richiesto a fronte di 29.000 lavoratori. I dati che do io sono quelli dei datori di lavoro, quindi delle domande che possono però prevedere all'interno della domanda da 1 a 15 dipendenti e quindi c'è il moltiplicatore che porta all'altra platea. La mole di lavoro è stata una mole eccezionale, le procedure adottate e che abbiamo dovuto adottare perché comunque non abbiamo scelto noi questo tipo di procedure, è una procedure complessa e penso che abbiamo comunque rispettato dei tempi accettabili e se l'Inps viene messa nelle condizioni migliori come noi stiamo cercando di fare facendo questo lavoro pulito, penso che nel giro di 10-15 giorni ci sarà già un grosso di domande che saranno arrivati a liquidazione.